E invece è arrivato il momento, è arrivato il momento in cui scendiamo noi in campo, oggi alle 20.45. E come sapete tutti, come so io da tifoso del Napoli e tanti tifosi del Napoli che mi seguono, c'è solo ed esclusivamente un imperativo. Prendersi i tre punti e rispedirli, i genoani, lì a Genova, con la Sampdoria, rispedirli tutti nel cesso. Prendendoci questi tre punti appunto, scusate il gioco di parole, e vincere, perché l'imperativo importantissimo è vincere. Stasera non c'è altro, basta parlare delle altre squadre, basta parlare di questo, conti, non conti. Stasera scendiamo in campo noi, scende in campo il Napoli. E quindi io esigo un'altra prestazione di livello. Spero, da tifoso grande del Napoli, in una terza vittoria consecutiva, compresa la Coppa Italia. Quindi una seconda vittoria consecutiva in campionato. Perché, ragazzi? Perché fondamentalmente, se si vince stasera, siamo ancora in corsa per l'Europa. È difficile dirlo, cioè io dico, com'è possibile? Eh, ed è così, ragazzi. Se si vince stasera, non vogliamo parlare, vabbè, della Champions, perché comunque ti metti a un buon punto, eh. Eri a 14 punti, ora vai a meno 9. Sono tanti punti, ma meglio di meno 14. Hai anche lo scontro diretto contro la Roma. Ieri hanno pareggiato Atalanta e Roma. Atalanta. La Roma ha perso e anche il Milan. E anche il Verona, ovviamente. Quindi, i tre punti, come si dice in Napolitano, ci vanno proprio l'indall'osso. Adiù. Importantissimi. L'imperativo è vincere. Perché se non si vince stasera, arrivederci a tutti quanti. È una partita molto, molto importante, ragazzi. Perché è importante perché, ripeto, oltre alla classifica, siamo ancora in gioco per l'Europa. Per l'Europa che conta. Si avvicina l'Europa League. Quindi, ragazzi, sono tre punti veramente vitali. Ovviamente vincere non sarà scontato stasera. Lo pensiamo noi. Lo penso io. Perché la Sampdoria, ok, che sta facendo schifo. Sta a fare schifo, Agnù. Però, quello che voglio dire è che le partite non sono mai facili. Secondo me stasera ci aspetta una Sampdoria con i coglioni. Che prendono pochi gol e si difendono in maniera perfetta. Quindi stasera bisogna avere la concentrazione. Come potete vedere questo video l'ho iniziato senza salutare perché, ragazzi, ripeto, i giochi sono finiti. Basta parlare dell'Inter, basta parlare del Milan, scendiamo in campo noi, il Napoli. E voi sapete, voi del canale, che quando parlo del grande Napoli, del mio grande Napoli, del nostro grande Napoli, io sono fiero. E comunque fuoriesce quella grinta che è in me. Perché, sinceramente, vedere un Napoli che non gioca sabato e domenica mi rattrista. E meno male che stasera scendiamo in campo noi. E spero che i calciatori del Napoli stasera non mi rattristino a me. Perché se no sono guai. Sono veramente guai. Spero con tutto il cuore di non sfogarmi stasera. Con tutto il cuore, perché non ne ho veramente voglia. Questa è una partita che bisogna approfittare. Sappiamo che il Napoli, quando deve approfittare, non lo fa mai. Esempio? Spal-Napoli. Uno a uno. Quindi, io spero in una ottima prestazione fatta sia con la Lazio che con la Juventus. Il Napoli non è detto che è guarito. Come ha detto Gattuso Ieri, sarà una partita difficile e sono d'accordo. Bisogna prendersi i tre punti. Il Napoli, secondo me, guarirà. Quando vincerà tre partite consecutive. Cioè, Sampdoria, Lecce e Cagliari. Anche il Cagliari. Anche se lì a Cagliari è difficile. Il Napoli in questo momento non è guarito. Ve lo dico io. Però, con l'aiuto dei tifosi, oggi giochiamo in trasferto ovviamente. Con l'aiuto dei tifosi, con l'aiuto di Lorenzo Insigne, che sta capendo come fare il capitano. E questo, io il Napoli, visto con la Juventus, visto con la Lazio, non lo vedevo da tanto. Tanto. Da inizio stagione. Da inizio stagione. Da Napoli e Liverpool. Stessa identica cosa. Quindi, senza se e senza ma, voglio, ci hanno portato i tre punti a casa. che sono fondamentali per continuare, per sperare in un posto. O in Europa League, o in Champions League. La Champions è lontana. È lontana. Ma nove punti. Sono tanti, ovviamente. Ma mai dire mai nel calcio, ragazzi. Perché hai anche lo scontro diretto. Hai gli scontri diretti. Stasera, bisogna scendere in campo con la giusta cattiveria. E con le stesse prestazioni, si cerca di fare la stessa prestazione di Juventus e Lazio. Quindi, questo, a Ju, è il mio pensiero per quanto riguarda la partita. Sempre, e dico sempre, forza Napoli. Andrugia Cereniciù. Sempre, e dico sempre, Juve e Merda. Stasera, prendiamoci questi tre punti. E rispediamo i genuani. Genuisiù, un cazzo mi frega. A casa. A casa. Una vittoria sarebbe importantissima. Come il pane. Come il pane. A stasera.